Con la nuova fase 2 dell'emergenza coronavirus iniziata il 18 maggio sono entrate in vigore nuove prescrizioni di sicurezza per evitare il contagio da covid nei luoghi di lavoro e in altre attività economiche come bar, negozi e ristoranti, disposte dal governo in accordo con la conferenza delle regioni. Ma ci sono anche altre disposizioni come ad esempio il divieto imposto dal presidente della regione toscana Enrico Rossi di mettere a disposizione giornali e riviste per la consultazione in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La norma adottata in via temporanea per il periodo dell'epidemia individua una possibilità di contagio nella consultazione promiscua di giornali e riviste che quindi non devono essere più reperibili in bar, pizzerie e ristoranti, stabilimenti balneari, studi professionali, negozi di parrucchiere, estetisti e tatuatori. Anche sul fronte degli spostamenti c'è una novità che riguarda chi abita nei comuni di confine con altre regioni. In un'altra ordinanza del presidente Rossi si legge che dal 18 maggio gli spostamenti fra comuni confinanti situati in regioni diverse è ammessa previa comunicazione congiunta dei sindaci e rispettivi prefetti. La nuova regola vale ovviamente soltanto per i cittadini residenti nei comuni di confine.